TV Paradise Toys, Fate e Folletti, Marcianise, evento qui ovviamente carissimi amici questa domenica mattina a Cocos Park a Marcianise in questa grandiosa piscina veramente bellissima dove giunge tanta gente fra qualche istante faremo l'intervista a Mario, il responsabile di Toys, Fate e Folletti e vi parlerà di questo evento naturalmente tutto nelle nostre telecamere, TV Paradise, vai con le immagini Grazie per la visione TV Paradise Toys, Fate e Folletti, Marcianise, ovviamente Cocos Park ci troviamo in provincia di Caserta, buongiorno Mario buongiorno a tutti allora questo evento organizzato da Toys, Fate e Folletti anche con la partecipazione di Cocos Park una grande piscina acquatica che esiste da tanti anni e oramai è presente per il pubblico di Caserta e provincia e non solo veramente qui si sta alla grande, si sta rilassati, si sta molto bene noi abbiamo anche la responsabile, buongiorno buongiorno veramente lei è la titolare ah addirittura è proprio la titolare, lui sei responsabile io sono responsabile perché questo evento qui al Cocos Park? ma prima di tutto per promozionare questo prodotto che è un prodotto nuovo naturalmente è Mutant Busters è un nuovo cartone animato che è in offerta soprattutto è in lancio ed è stato offerto da famosa Italia che ci ha dato la possibilità naturalmente di promozionare questo prodotto grazie a tutti allora signora lei cosa ci dice riguardo ai bambini, per gli eventi, feste? allora noi vi aspetteremo insomma in tanti perché veramente troverete da noi dei prezzi speciali quindi accorrete, accorrete tutti bene allora vi raccomando seguite sempre ovviamente Toys, Fate e Folletti noi mandiamo le immagini e andiamo con altre interviste Pino Grazioli, TV Paradise bene allora andiamo con la prima intervista buongiorno signora, salve, come si chiama lei? Luisa da dove viene? da Secondigliano Secondigliano, Napoli eccoci allora con la prima intervista Toys, Fate e Folletti qui ovviamente a Marcianise ci troviamo in questo splendido parco ovviamente Cocos Park naturalmente perché? perché ci troviamo molto bene quindi lei è anche cliente di Toys, Fate e Folletti? sì perché abbiamo molti bambini e siamo clienti fissi? sì quindi tutte le promozioni che lancia Toys, Fate e Folletti a Marcianise è sempre presente? sempre, sempre e al Cocos Park perché? perché ci troviamo bene veniamo da 5 anni si sta troppo bene anche le persone tutto, anche lo staff è garanzia per qualità sì è giusto lei? è idem idem ovviamente ce l'hai vicino lo conosco benissimo sì 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 cliente fissa abbastanza cosa hai acquistato lì? la cosa che ti viene in mente? di recente una piscina una piscina per i bambini? sì no, non per me no per te, naturale non per i miei bambini perché non c'è vabbè per te ci pensa la piscina del Cocos Park esatto invece per la piscina per i bambini ci pensa Toys, Fate e Folletti Toys, Fate e Folletti via all'Europa via all'Europa vi raccomando non mancate venite in tanti con promozioni da sballo da sballo perfetto lo dice? Giovanna Giovanna salutiamo Giovanna ciao al Toys, Fate e Folletti sì che hai comprato? eh, giocattoli eh, attrezzi per la scuola perfetto questo è importante dirlo allora salutiamo le telecamere di TV Paradise naturalmente da? Fernanda Fernanda ciao ragazzi ciao salutiamo le telecamere di TV Paradise e invitiamo tutti quanti a comprare da Toys, Fate e Folletti via all'Europa Marcianise provincia di? Caserta Caserta ciao, salutiamo ciao acquistare prodotti italiani da Toys, Fate e Folletti assolutamente venite tutti vi aspettiamo ok, salutiamo ciao ciao e amici andiamo con un'altra intervista abbiamo due responsabili qui uno ovviamente della piscina Cocos Park oramai conosciuta in tutta la regione Campania che si chiama Andrea giusto? si, si Andrea e poi abbiamo Toys, Fate e Folletti Mario con lui che ha creato ciao, buongiorno e allora parliamo un attimino di entrambe le attività allora il Cocos Park da 5 anni è sempre presente qui a Marcianise sempre con nuovi eventi si è modernato anche vedo che ancora di più bello per i bambini quindi una grande piscina dove si possono anche stare tranquilli le famiglie giusto? come si, si è un'attività comoda per tutti poi grazie ai nostri amici come Mario il grande organizzatore che organizza lui Fate e Folletti che ci anima questa bellissima domenica e infatti parliamo di Folletti allora questa secondigliana Napoli Marcianise Caserta Teverola Fratta Maggiore allora venite in tanti c'è tutta la campania c'è tutta la campania allora noi in tv siccome ci guardano tante persone diciamolo dove si trova il Cocos Park dove si trova Toyst, Fate e Folletti allora il Cocos Park semplicissimo uscita a Lazio Mediano di Marcianise via Trentola quindi un contatto telefonico per chiunque vorrebbe venire qui la domenica e il sabato aperte tutti i giorni anche per feste di 18 anni perché voi organizzate anche feste di tutte le età 18 anni e vari eventi e vari eventi diamo un numero telefonico allora contattate direttamente me e Andrea 339 26 43 628 perfetto ragazzi mi raccomando tutti al Cocos Park per rinfrescarvi quest'estate 2014 ma adesso arriviamo da Toyst, Fate e Folletti mi devo andare a comprare un giocattolo bene allora Mario la novità la novità ma prima di tutto voglio ringraziare il Cocos Park che ci ha permesso naturalmente questa splendida manifestazione e soprattutto che ci ha dato la possibilità di sponsorizzare questi prodotti che ci sono stati gentilmente omaggiati dal gruppo marzatico quindi di rappresentanza e poi vogliamo ringraziare famosa e soprattutto il nostro punto vendita che naturalmente con la nostra gentile clientela su Marcianise e naturalmente tutti i paesi di Mitrofi Caserta Recale naturalmente ci danno la possibilità di far sì che i nostri clienti e i nostri prodotti ormai li conoscono un po' tutti quanti quindi soprattutto torno a ripetere voglio ringraziare il Cocos Park che ci ha dato la possibilità di fare questa splendida manifestazione e di presentare questo nuovo cartone animato che si chiama Mutant Master mi raccomando Cocos Park e Toys Fate Folletti ciao a tutti ciao